Emoglobina glicata, un parametro di laboratorio estremamente importante. Ho parlato in un video precedente delle dieci ragioni per cui il nostro corpo invecchia più di quello che è la nostra età anagrafica. Noi spesso abbiamo, non so, 40 anni, però i nostri tessuti sono tessuti da settantenne. Ci sono dieci ragioni, abbiamo visto, metaboliche, funzionali, organiche e così via. Oggi parliamo della prima di questa ragione, che è la più importante. L'uomo di oggi vive una vita diversa da quella per cui siamo stati programmati. Noi facciamo meno esercizio fisico, abbiamo molto più stress, ma soprattutto mangiamo di più. E mangiamo di più cosa? Carboidrati, sostanze derivate dai cereali. L'uomo un tempo mangiava grasso, soprattutto, che dava una grande energia, se ne parla tantissimo oggi per la dieta paleolitica, mangiava proteine e mangiava una quantità molto ridotta rispetto ad oggi di carboidrati. Questo cambiamento epocale della nostra alimentazione, dovuta all'agricoltura prima e al benessere poi, ai supermercati, oggi ancora, ha portato al fatto che noi abbiamo molto spesso degli alti livelli di glicemia. Lo zucchero nel nostro sangue è a dei livelli abbastanza alti. C'è un ormone che fa sì che questo zucchero venga tirato fuori dal sangue, venga stoccato in riserva per momenti di carenza di cibo, che è l'insulina, e questo zucchero viene molto spesso trasformato in grasso. Ecco allora l'obesità da iperalimentazione. Lo zucchero si trasforma in grasso, si trasforma in obesità prima, in sindrome metabolica poi. Ma il concetto è anche un altro, non c'è solo un danno cronico dell'alimentazione tra politica i carboidrati, che è appunto legato all'aumento dei depositi grassi, ma c'è anche un danno acuto, perché lo zucchero nella nostra circolazione ha anche un effetto infiammatorio. Nei nostri tessuti l'eccesso di zucchero provoca un invecchiamento prematuro. E questo è una cosa molto importante. Quindi sempre di più sto vedendo anche questi apparecchi che si attaccano al muscolo e uno monitora continuamente i suoi dei 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 di zuccheri. Direi che è una cosa molto giusta, perché noi tendiamo ad avere uno dei picchi di glicemia, perché mangiamo troppo, due, una glicemia troppo alta costante, perché mangiamo troppo spesso. Entrambe queste cose sono estremamente negative. Come facciamo per sapere in maniera semplice se stiamo sbagliando la nostra alimentazione sul piano dei carboidrati? Dosiamo ogni tanto l'emoglobina glicata. L'emoglobina glicata ci dà l'idea della media, sostanzialmente, della nostra glicemia negli ultimi mesi. Quindi quando abbiamo una sindrome metabolica o un prediabete, il dosaggio della glicemia a digiuno al mattino non ha molta importanza. Quello che ha importanza è questa emoglobina glicata, capire quanto lo zucchero si attacca all'emoglobina, quanto è attaccato all'emoglobina in maniera quasi cronica, direi, in relazione alla nostra alimentazione, questo ci dà l'idea del disordine glicemico della nostra vita. Abbiamo dei parametri molto specifici, l'emoglobina glicata deve andare dal 4,5% al 5,5% dell'emoglobina e se siamo sopra il 6% siamo in fase sostanzialmente diabetica. Quindi dobbiamo stare molto molto attenti perché il prediabete si cura molto bene, il diabete si cura con grandi difficoltà. Quindi questo parametro di maniera glicata è importante non solo perché più è nel range, più è verso il 4,5% o anche leggermente meno, più la nostra vita biologica è buona, ma anche perché se abbiamo un terzo di livello entriamo nella fase prediabetica prima e diabetica poi. Ci sono oggi dei indici, dei parametri, dei calcoli molto semplici che possiamo fare anche a livello noi casalingo. Se noi mettiamo per esempio la glicemia, la moltiplichiamo per i livelli dell'insulina e la dividiamo per un numero fisso che è 22,5, abbiamo l'indice della resistenza insulinica. La resistenza insulinica è la ragione molto spesso per cui i livelli di zucchero sono alti, è la ragione molto spesso dell'obesità e della sindrome metabolica. Quindi sapere la nostra resistenza insulinica è fondamentale perché la resistenza insulinica è in realtà la madre di tutte le problematiche legate alla sindrome metabolica. Se poi invece facciamo un calcolo un po' diverso, moltiplichiamo l'insulina per 20 e dividiamo per il glucosio, meno 3,5, è un calcolo abbastanza semplice che trovate su internet volendo, abbiamo l'indice OMA-BETA che vuol dire l'indice della funzionalità delle nostre cellule pancreatiche perché alcune volte è vero che l'insulina glicata è alta per degli errori dietetici continui che facciamo, per il poco esercizio fisico, eccetera, eccetera. Altre volte però abbiamo, magari come fattore genetico e costituzionale, una carenza di funzione delle nostre cellule beta pancreatiche che producono l'insulina, quindi dobbiamo valutare questi due fattori molto molto importanti. Quindi è chiaro che ereditarietà, la costituzione è molto importante, l'età, l'alimentazione sbagliata, il danno pancreatico, lo stile di vita sono tutte situazioni che tendono ad aumentare l'emoglionale glicata e se noi troviamo l'emoglionale glicata alta dobbiamo agire su queste affinché poi il nostro calcolo dell'età biologica tenda a darci un'età biologica minore della nostra età anagrafica. E cosa possiamo fare dal punto di vista dell'integrazione? Abbiamo almeno 4-5 possibilità. Abbiamo innanzitutto la cannella. Io molto spesso la cannella la uso assieme al cromo, per esempio, ed è un modo molto molto interessante per lavorare sulla resistenza insulinica, sul dolce c'è alto il livello di resistenza insulinica. Poi abbiamo il fieno greco. Il fieno greco è un'altra sostanza molto importante per aumentare la sensibilità insulinica. Poi abbiamo la momordica, che è questa cucurbitacea, questo melone amaro, che è molto importante anche in coloro che hanno un problema di prediabete o di diabete pur essendo magrico. Io uso molto spesso la cannella e il cromo nel prediabetico grasso e la momordica nel prediabetico magro invece. Poi il fieno greco è molto importante. Il gelso è anche una pianta molto interessante per questo, ma soprattutto la molecola che mi piace di tutti è la berberina. La berberina agisce in maniera molto interessante, impedisce la completa digestione dei polisaccaridi, dei disaccaridi così via a livello intestinale, così assorbiamo meno lo zucchero. Ha un effetto molto importante sulla flora batterica intestinale, quindi il nostro microbiota condiziona l'assorbimento del zucchero e quindi aumenta la glicemia ed agisce anche, cosa che non è da trascurare, sul sistema immunitario e sul colesterolo. Quindi la berberina è una molecola che dovremmo per prima assumere quando c'è un problema di età biologica alta legata a un problema metabolico che sia dal punto di vista glicemico che sia dal punto di vista lipidico. Quindi abbiamo capito oggi una cosa molto importante, l'importanza del dosaggio dell'emoglobina glicata, una grande attenzione al fatto che deve essere tra il 4 e il 5%, l'aglicazione dell'emoglobina deve essere tra il 4 e il 5%, se andiamo oltre il 5-5% dobbiamo già attivarci e poi possiamo fare cose molto interessanti perché già avendo un'emoglobina glicata elevata ci attiviamo con l'esercizio fisico, ci attiviamo con l'alimentazione che deve essere riduttiva sul piano soprattutto dei carboidrati, degli zuccheri, ovviamente i zuccheri semplici non li valutano almeno perché tutti dovremmo escludere i zuccheri semplici della nostra alimentazione e inserire invece e cercare di fare un'alimentazione che non vada a stimolare l'insulina perché più noi stimoliamo l'insulina più poi diventiamo insensibili all'insulina, più diventiamo insensibili all'insulina maggiore poi è la possibilità di avere l'emoglobina glicata alta, maggiore possibilità di avere tendenza diabetica. Ho trattato oggi solo uno dei dieci punti che condizionano l'aumento della nostra età biologica tessutale. Se ti è piaciuto questo video e trovi interessante che si trattino tutti e dieci gli elementi, i punti dell'invecchiamento biologico, commenta qui sotto e fammi sapere. Grazie. Grazie. Grazie.